A 20 giorni dal voto la campagna elettorale per le elezioni regionali procede a singhiozzo. Aperture di comitati da un lato, incremento dei contatti telefonici dall'altro. Il Covid che non consente assembramenti e l'andamento crescente dei casi di contagio suggeriscono prudenza. Di questo passo, oltre al programma, i candidati dovranno convincere gli elettori ad andare alle urne. Si aspettano nei prossimi giorni i big rappresentanti di governo per PD e 5 Stelle, Berlusconi, Renzi. In settimana torna in Irpinia il candidato del centrodestra Stefano Caldoro, che venerdì sarà al fianco della lista di fratelli d'Italia nella presentazione ufficiale. Alla bazia del goletto domani l'incontro per la presentazione di una joint venture italo-tedesca che produce componenti per l'automotive. Non dovrebbe essere della giornata il governatore De Luca, seppure invitato. Il presidente uscente è comunque pronto a ritornare in Irpinia. Se sul piano programmatico sono soprattutto i confronti a distanza a far emergere i punti di vista differenti, spesso oscurati dalle polemiche, l'ultima delle polemiche si registra nel capoluogo. Fa discutere l'ipotesi di un passo indietro da parte di rappresentanti istituzionali impegnati nella corsa per Santa Lucia. A mezzo stampa è arrivata la richiesta delle opposizioni consigliari di un passo indietro di Ugo Maggio dalla carica di presidente del Consiglio Comunale di Avellino. Sul punto festa ha sfidato il Partito Democratico. Facciano la stessa richiesta anche per l'alto calore dove l'amministratore unico è il candidato Michelangelo Ciarcia.